Buona giornata. Un particolare digiuno che possiamo compiere oggi è quello del giudizio nei confronti degli altri, non giudicare gli altri. Spesso e volentieri siamo portati a questo. Perché non compiere questo digiuno? In fondo in fondo questo digiuno qua ci aiuta anche a riscoprire che la presenza di Dio e la presenza di Gesù vive negli altri, non è solo con me ma è con gli altri ed è proprio questo vivere negli altri che mi dà un rispetto ma mi fa compiere questi passi nel non giudicare. È un cammino personale il digiuno certamente ma alla fine è proprio questa conversione personale che nella realtà coinvolge anche coloro che mi sono accanto, cioè la comunità. Ed è proprio vero al che digiuniamo dal giudizio ma sicuramente avremo una lode maggiore nel riconoscere la presenza di Dio negli altri. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata.